Il Natale arriva in città. Il comune di Avellino, dopo il grande successo riscosso l'anno scorso, rinnova l'appuntamento in Piazza Libertà con le iconiche casette natalizie di stile nordico che alliteranno le feste e ci traghetteranno nel 2024. Si comincia oggi con l'avvio dei mercatini di Piazza Libertà in esposizione alle eccellenze dell'artigianato e dell'enogastronomia locali, oggetti in legno, gioielli, candele, ma anche nocciole, torrone, olio, tartufi e tante altre delizie. Un mercatino particolarmente ricco e ricercato che vedrà alternarsi nella principale agorà cittadina ben 50 artigiani e produttori, tra i più rinomati di Irpinia. Una piacevole ed emozionante passeggiata, spiega la vice sindaco con delega le attività produttive al turismo Laura Nargi, alla scoperta di ciò che di meglio esprimono il nostro artigianato e i nostri produttori. Un luogo di festa in cui viverà pieno il Natale e la sua magica atmosfera. Ma è solo l'inizio. Su iniziativa dell'assessorato alle attività produttive al turismo, coordinato dalla vice sindaco, il mercatino caratterizzerà e riccherà la programmazione natalizia del capoluogo con un ricco calendario di eventi musicali, spettacoli e momenti ludici, in un'atmosfera calda e festosa, in attesa dell'8 dicembre con l'accensione del grande albero di Natale delle illuminazioni natalizie.